Il network della disabilità è partito ufficialmente il 30 settembre 2017 a Napoli. Oggi, primo dicembre, è stato presentato a Salerno. Che cos'è il network della disabilità? È una rete costituita da associazioni professionisti, operatori turistici, consolati, parrocchie, che vuole dare un sostegno effettivo e concreto alle famiglie, agli disabili, ai professionisti che vogliono interagire nel mondo del lavoro. Questo è il network. È stato promosso dall'Associazione ALEC. Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito www.associazionealec.net oppure telefonarci al 333 416 56 22. Allora, salve, sono la dottoressa Zeneida Sierra. Rappresento il network della disabilità, un progetto nato e partito il 30 di novembre a Napoli. È nel teatro Nino Carlo Taranto. Network della disabilità, che vuoi dire? È un gruppo di persone, di professionisti, di associazioni, di enti pubblici e privati, di famiglie, tutti messe insieme per cercare di dargli al disabile un modo e una prospettiva per vivere in modo migliore. Il network della disabilità è stato creato per sostenere quelle famiglie e quelle disabili che molte volte sono soli. Quelle famiglie che hanno un disabile a casa e che non hanno il modo di andare avanti, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale. Sociali. Praticamente oggi il disabile è solo. Mi riamarga tanto sapere, perché lo vivo ogni giorno. Io vivo fianco a fianco con il disabile. Quindi, vederle soffrire, vederle dire che non hanno il modo di arrivare alla fine del mese per poter vivere, ci fa piangere. Abbiamo creato questo network della disabilità per dargli l'opportunità al disabile di non essere più chiuso in casa, di socializzare, di essere insieme all'altro. Buongiorno, sono l'avvocato Avino, mi occupo di diritto di famiglia e il mio contributo nell'associazione, nel network della disabilità, ALEC, è improntato proprio ad un aiuto e ad un sostegno alle famiglie. Alle famiglie con persone disabili, bisognose di attenzioni e cure particolari, oltre che alle famiglie che attraversano un periodo di crisi diverso dalle problematiche quotidiane. Il nostro è un contributo pratico, fattivo, sempre nel confronto diretto con i soggetti veri interlocutori del network, tra le famiglie.